C'è anche un imprenditore di Brolo, oltre ad altri tre di Catania, Grigento e Naro operanti nel settore delle costruzioni edili, un funzionario direttivo del Servizio 8 della Regione Siciliana e un ingegnere di Messina, coinvolti nell'operazione Pecunia Portum, che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania. Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale Tneo a dare esecuzione all'ordinanza del GIP per una indagine su frode nelle pubbliche forniture in relazione ai lavori di protezione dello specchio acqueo del primo bacino del porto turistico di riposto. I lavori sarebbero stati realizzati in modo difforme rispetto a quanto previsto dal progetto, con una diminuzione della sicurezza delle opere costruite e un indebito profitto per l'impresa, derivante da un consistente risparmio di spesa pari a circa la metà della somma stanziata. Le indagini hanno riguardato lavori eseguiti tra settembre 2019 e maggio 2020 per un valore di circa un milione di euro. Per gli inquirenti i lavori sarebbero stati realizzati con modalità grossolane, con materiali di qualità inferiore e senza utilizzo degli strumenti previsti per l'esecuzione a regola d'arte. Da qui il GIP ha disposto quattro misure cautelari, la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi con interdizione temporanea di tutte le attività per il funzionario regionale, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed esercitare la sua professione per 12 mesi per l'ingegnere di Messina, e infine il divieto per 12 mesi di contrarre con la pubblica amministrazione e di esercitare attività di impresa per i quattro imprenditori.